Salone Risparmio 2014, siamo qui con Marco Avanzo Barbieri di Noi Berger Berman. Marco, la ricerca da parte dei gestori si sta concentrando sull'alpha, visto che catturare il beta diventa sempre più difficile con questa incertezza. La vostra società in questo contesto come si sta muovendo? Sì, è uno sforzo che abbiamo intrapreso ormai da qualche anno nella ricerca dell'alpha, soprattutto tramite le strategie che noi definiamo liquid alternatives, ovvero alternative possibilmente edge. Quello che abbiamo ideato è un fondo che si chiama Absolute Return Multistrategy, dove noi siamo il gestore delegato e subdeleghiamo la gestione di strategie effettivamente edge ed effettivamente gestite a specialisti del messiere, ovvero edge fund managers. Sono tutte strategie molto scorrelate dal mercato azionario o obbligazionario. Ecco, un prodotto di questo tipo in un'asta location più complessa, cosa può servire? Ad esempio, diamo un consiglio pratico ai promotori che ci stanno seguendo. Storicamente il portafoglio dei promotori è stato molto incentrato su molte fonti di beta, quindi azionario, obbligazionario. Con i tassi così bassi e con il mercato azionario che è arellato così tanto, bisogna un po' ribaltare il paradigma, quindi avere uno zoccolo duro di alfa, quindi non correlato sui mercati e integrarlo con dei beta specifici da cambiare di volta in volta. Dalla Salone del Risparmio con noi Berger Berman è tutto.